È stata presentata nella sede della Presidenza della Regione Toscana a Firenze la ventiduesima edizione dei colloqui di Cortona dedicati alle trasformazioni sociali innescate dalla rivoluzione tecnologica oggi, in programma tra Cortona e Firenze dal 16 al 18 ottobre con il titolo Social Transformation in a Digital World. L'evento è organizzato dalla Fondazione Feltrinelli in collaborazione con la Regione Toscana ed è cofinanziato dai fondi regionali FESR, Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, e FSE, Fondo Sociale Europeo. Alla presentazione con l'assessore alle attività produttive Stefano Cioffo è intervenuto tra gli altri Carlo Feltrinelli, presidente della Fondazione Feltrinelli, che ha promosso una selezione internazionale dei 30 giovani ricercatori attese ai colloqui per parlare di marginalità territoriali, sociali e culturali. Un formato nuovo, innovativo, che in qualche modo mette a fianco, oltre che la speculazione politica nei temi e nell'indagine tecnica, un confronto vero tra i portatori di interesse, le stakeholder e i legislatori, i soggetti istituzionali con una serie di domande, come i processi di innovazione stanno determinando profonde trasformazioni sul tessuto economico, sul tessuto sociale e sui territori. Nel corso dei tre giorni dei colloqui di Cortona, l'ultimo in Santa Pollonia a Firenze con il presidente della Regione Enrico Rossi, sono attesi ospiti di rilevo internazionale e sono in programma momenti di confronto tra mondo della politica, delle imprese e rappresentanti dei territori su rivoluzione digitale, cittadinanza, formazione e imprenditoria sociale.